Rimane inalterata la devozione verso San Giuseppe, festa a metà strada tra l'inverno e la bella stagione che incontra il favore della gente, soprattutto perché si sposa con le tradizioni locali. A Polignano la piccola chiesa in piazza Garibaldi è stata presa d'assalto sin dal mattino per una preghiera alla statua del santo Falegname e per ricevere il tradizionale pane benedetto. Una devozione verso il santo non solo da parte dei papà ma da tutto il mondo del lavoro in questo difficile momento. In serata dopo le messe nelle varie chiese sono stati i falò i protagonisti. Per la prima volta nella piazza di Sant'Antonio un falò ha animato la serata anche per fare gli auguri al parogo Don Pinuccio il cui nome di Battesimo è Giuseppe. I giovani della parrocchia oltre alla catasta di legna da ardere hanno anche animato la serata con musica, balli e piatti tipici. Sono stati gli esperti maestri fanovari di Castellane invece a preparare il grande falò in piazza Moro, tradizione che si ripete da cinque anni grazie all'associazione Venti con il supporto dell'amministrazione comunale della parrocchia matrice. Sembra crescere anno dopo anno, siamo arrivati alla quinta edizione quindi speriamo sempre di avere un ritorno d'immagine come quello che già stiamo avendo con i cittadini che ci seguono. Anche i commercianti per fortuna ci stanno seguendo sempre di più. Probabilmente avremo delle difficoltà l'anno prossimo se ci sono dei cantieri che dovrebbero aprirsi però comunque cercheremo di spostarci da un'altra parte come mi ha incoraggiato e come ci ha incoraggiato Don Gaetano non dobbiamo mollare e quindi portare avanti questa tradizione. Il parroco Don Gaetano prima dell'accensione ha voluto ricordare Papa Francesco nel giorno d'inizio del suo pontificato. Una giornata molto bella, tra l'altro anche molto interessante perché questo Papa è entrato proprio di colpo nella nostra vita con la sua, più che semplicità, con la sua essenzialità perché è un Papa che ci ha trasmesso il valore importante di mettere Cristo al centro della nostra vita. Poi la povertà, la semplicità sono una conseguenza però ci ha insegnato anche nell'omelia proprio di questa mattina che il valore fondamentale della fide cristiana è mettere Cristo al centro della nostra vita. Quindi siamo tutti felici per aver avuto questo nuovo pastore, siamo felici questa sera per festeggiare insieme a tutto il popolo di Polignano. In Piazza Moro non sono mancati i tradizionali stand gastronomici preparati dai commercianti locali che cercano di far crescere questa festa. Zeppole, Panzerotti e il classico fornello di carne alla brace hanno incontrato il favore del pubblico che fine a tardasera ha fatto la fila, numerosi visitatori provenienti dai comuni vicini. Allora San Giuseppe, la festa di tutti i papà, credo, è vero? Lo chiedo a voi. Grazie a tutti.